...occasione per ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì che questa serata venisse realizzata, togliendo del tempo libero la loro quotidianità. Come avete notato, questa serata abbraccia tutte le fasce di età, stili di musica e di ballo, dal genere classico all'Hipop, da Celentano ai giorni nostri. Presentiamo quindi un gruppo che rappresenta come la musica non tramonta mai, con la batteria e Mangio, al basso tra un applauso, al basso lo mette le Filippo, alle gitarre Giotta Claudio e Nicola Vitale, alla voce la placa Giovanni, con No No No, Deison Raus e Susanna Di Adriano Celentano, ecco a voi i Gattrineos! Buonasera a tutti, grazie per l'applauso! Buonasera a tutti, grazie per l'applauso! Penso che qua stasera ci sono i migliori, quelli che la musica la sentano, l'ascoltano e vogliono farla, o meglio la fanno, forse meglio di noi, però la presenza vuole dire questo, perché quando c'è una massa proprio, c'è un pubblico, la massa, qua ci sono i migliori questa sera, un applauso per il pubblico, grazie! Buonasera a tutti, grazie! Buonasera a tutti, grazie! Buonasera a tutti, grazie! E purtroppo questo qui in testa è difficile lo che entra. E' giusto che dobbiamo leggere. Perché qui ci sono stati tanti giovani, io purtroppo sono arrivato adesso. E i giovani è tutta un'altra cosa. Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez. Poi mi ha letto con Pulizio, non mi compri, mi compro la pene. E se scopate a Maliù, come un po' ci sta ripetendo. Susanna, 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 mon amore. Sì. 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 E prima dormendo un quadro, i campiani aiuterai, ma più niente, solo di te, forse un giorno ritornerai. Susanna, 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 Susanna Monaco. Grazie! Di solito, bene questo manifesto, vorrei per favore, con qualche macchina fotografica, riprendere questo manifesto. Grazie, grazie, due minuti di tempo, perché noi viviamo di queste cose, queste piccole cose, che poi sono le piccole cose che fanno le grandi cose. Perché la sua piccola, che è da cercare lavorare. Ok, grazie, grazie, se qualcuno lo mette in questo momento, la faccia bene. Che sono loro, poi da tanto solo. Di solito si dice sempre sì, 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 ma noi siamo quelli delle donne o no. Grazie, grazie. 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 No, 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 no Se mi chiederà di star con lei Sempre così A dice niente più E le dirò No, 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 no Non mi ami No, 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 no Non mi gioi No, 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 no Non mi ami No, 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 no Non mi gioi E le dirò No, 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 no No, no, no Yeah Grazie Un applauso Alla chitarra di Orta Antonio Alla chitarra di Palen Nicola Al basso di Piccolo Vene Alla battaglia di Giovespa Mi lavande a tutti perché sono un basso e nessuno mi vede Ma sono sempre io Giovanni da Plata Un cano suono, un cano nero Grazie 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 Peccatori Grida così Perché ora che continuiamo alle scattaci Sarebbe fermo a continuare Purtroppo ci dobbiamo fermare A presto Grazie a tutti Un cano nero Vi faremo fare una serata Dai